Ciao a tutti, stiamo cercando di testare i diversi consumi motori con la nostra nuova VUER Gimbal. Abbiamo una interfaccia seriale per guidare i motori a diversa velocità e a diversa velocità, quindi stiamo cercando di testare e mesurare la consuma current. Abbiamo piccoli motori per roll and pitch, un altro motor per yaw axis, e stiamo cercando di testare un altro motor più grande. Allora, cominciamo l'esperimento. Allora, cominciamo con il più grande motor. No, non c'è la misura. Allora, cominciamo l'esperienza di testare il motor con 100% di potenza. e stiamo consumando 6 Ampere. Allora, proviamo un altro motor. Here we are. That's a good resistance. And the consumption is about 1.5 Ampere. And the last motor. This is not so strong. With about the same current. And 1.5 Ampere. Ok, bye. 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 Bye.